buongiorno 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 ben ritrovati a questa videoanalisi dedicata alle principali materie prime tra altre cose stavo notando entriamo un attimo nella trading zona trading zona un servizio gratuito dove tu puoi creare una tua postazione di trading con tanti servizi quotazioni live tv chat room c'è di tutto di più quotazioni in tempo reale calendario macroeconomico ci sono anche i grafici intraday ai chi nasci dove sul brand c'è una possibile inversione che devo poi segnalare all'interno di un altro servizio servizi premium sono gli unici a pagamento dentro la trading zona si possono avere gratis sotto nella descrizione del video trovi tutte le informazioni come averle quindi occhio 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 una possibile inversione però sto parlando quadro grafico intraday perché se andiamo a vedere invece la situazione sempre sul grafico giornaliero grafico ai chi nasce ma questa volta giornaliero quello di prima era un 30 minuti c'è una bella lotta c'è una bellissima lotta tra rialzisti e ribassisti guardate siamo qui c'è stata questa situazione con delle candele rosse ai chi nasci in corrispondenza della resistenza 53 65 che è il livello che va a richiamare una precedente situazione quella proprio prima del crollo della prima ondata di contagi cominciata in italia 20 febbraio e da lì c'è una bella lotta per il momento secondo quella che la mia strategia umile strategia per carità non infallibile prendo come riferimento quello che è la chiusura con i livelli ufficiali quindi torno al grafico candlestick vedete ieri eravamo lì poi ha chiuso sotto si chiude sempre chiusure sotto quello che il livello da me indicato a 53 dollari e 65 per quanto riguarda quindi il petrolio mentre gold si conferma al rialzo oggi anche registrato un nuovo massimo da quando è partita questa inversione con la candela verde del 19 gennaio toccati 1875 stesso discorso praticamente per il silver quindi l'argento che prosegue il rialzo dal livello 24 e 73 platinum più 1 e 31 sta qui eccolo qua vedete ora lì però bisogna vedere a fine seduta se chiude sopra come sta adesso a quel punto sarebbe violata la resistenza mentre il gas naturale meno 2 17 conferma la debolezza debolezza gli è ritoccato un minimo a 2 454 che significa quasi 8 punti percentuali da quando è apparsa la candela rossa del 14 gennaio e poi il rame più 0 22 per cento il palladium e lì si vede una possibile candela verde a chi nasce in arrivo ti aspetto nella trading zone domani con una nuova video analisi dedicata alle materie prime buona giornata grazie 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 grazie